Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Bocce ferme in casa Ancona. Si attende l'ufficializzazione della conferma di Marco Donadello sulla panchina d'Orica prima di dare il via alle operazioni di mercato. Tra domani e venerdì è in programma il summit con il DS Micciola, incontro che servirà per ratificare l'accordo tra le parti. Un contratto che potrebbe essere biennale, con l'opzione anche per il terzo anno. Una volta messo nero su bianco, si passerà all'allestimento della nuova Ancona. Il primo interrogativo da sciogliere riguarda Federico Melchiorri. Il cigno di Treia sembra allontanarsi dal club bianco-rosso. Sei reti, tre sul rigore e un assist. Questo lo scorda il centramanti maceratese nella sua esperienza con l'Ancona, iniziata nel mese di gennaio, dopo il trasferimento dal Perugia. I suoi 36 anni potrebbero pesare su una possibile riconferma, anche se Melchiorri ha ancora tanta voglia di incidere sul campo. Un attaccante che incivanta un mercato significativo, ma di certo negli ultimi mesi con la maglia d'orica non ha particolarmente brillato. Donadel, infatti, quando ha schierato la squadra con una punta, gli ha preferito sempre Spagnoli, mentre non è andata meglio con i due attaccanti. La conferma nel match di andata dei play-off con il Lecco, quando Melchiorri è stato sostituito nel corso dell'intervallo. Un rapporto, quindi, che rischia di interrompersi dopo soli sei mesi. E le percentuali, in tal senso, sono abbastanza elevate. Su Melchiorri c'è il concreto interessamento della ricanatese. I suoi tifosi già lo sognano in coppia con Sbaffo. Ma ci sarebbe anche un interessamento da parte della Vispesaro. Con i suoi 36 anni, il bomber di Treia vanta sempre parecchi estimatori. La cremonese retrocessa in B ha poi messo gli occhi su Pierluigi Simonetti. Il centrocampista classe 2001 è stato una delle rivelazioni dell'Ancona, con le sue 36 presenze e le cinque reti realizzate. Simonetti ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia d'Orica. Il suo contratto scade a giugno del 2024.